ragazzi oggi è ufficialmente finita cosa scopriamo dopo la sigla ciao a tutti ragazzi bentornati da carmi special si è finita è finita sia la stagione fantacalcistica perché perché io ho sempre concluso la mia stagione youtubica fantacalcistica sempre a giugno e dal primo luglio parto con la nuova stagione siete carichi siete pronti e allora mi raccomando non perdetevi tutti i contenuti che usciranno già domani e non perdetevi neanche la live di stasera ma ne parleremo a fine video per sapere di cosa tratterà la live volevo anche farvi notare guardate qui la maglia fighissima della nazionale che ovviamente ho preso dove se non su calcio 2022 it.com link in descrizione 10% per lo sconto carmi guardate qui molto figa delle ottime repliche a un ottimo prezzo utilizzate il codice sconto carmi e andatevi a leggere anche nella descrizione l'offerta perché dipende quante maglie comprate ve ne toccano anche alcune gratis inserire nelle osservazioni ok al momento della cassa andiamo a vedere invece adesso alcune cose perché non è finita solo la stagione ma è finita anche un'altra cosa andiamo andiamo a vedere un po' espulciare alcune cose il video spero lo guardiate tutto perché ci sono alcuni anche annunci importanti riguardo il mercato del fanta europeo e non solo volevo anche ringraziare questo ovviamente il sito appunto di calcio 2022 it vi ricordo appunto link in descrizione volevo anche ringraziare tutti i tippers ok di questa stagione anche cioè tutti coloro che hanno supportato con like commenti anche donazioni sia su tipi appunto la nuova piattaforma per supportare questo progetto anche con le varie sub sulla piattaforma viola veramente ragazzi grazie tutto il supporto che avete dato in questa stagione e grazie anche per quello che darete in futuro e tra l'altro nella sezione commenti ho risposto a leonardo fanta barba tatarome francesco alessandro l'altro alessandro e marco tutti coloro che stanno supportando appunto tramite tipi andiamo adesso su fanta club perché ci sono alcune news per quanto riguarda i fanta europeo ai quali partecipo per quanto riguarda quello fatto ad asta con le varie pagine fanta calcistiche era partito tutto come doveva ragazzi con la doppietta di dolberg che faceva già sognare pregustare il passaggio del turno no perché ho beccato un avversario tosto abbiamo in realtà pareggiato 2 a 2 ok ma mentre io ho fatto 73 grazie a delict che decide di farsi espelle di giocare a palla a volo e prendere un 3 e mezzo ragazzi 3 e mezzo cioè già pensate no al classico voto che delict mi ha preso in questo fanta europeo un 6 e mezzo già sono tre punti di differenza più eventuale modificatore e questi tre punti mi sono costati il passaggio del turno questo 3 e mezzo di delict ma tra l'altro al suo posto avrei potuto anche mettere show appena preso all'asta e che mi ha preso un bell'otto con l'assist compreso quindi un bello spreco e tra l'altro capitano ho messo un pappè che si è fatto l'assist ma credo che a causa del rigore sbagliato gli hanno abbassato il voto anche se in realtà i voti andavano fine supplementare quindi in teoria quello che accadeva a rigori non doveva influenzare le pagine ma lasciamo stare e in più come andai mi prende la traversa insomma una sfiga clamorosa il mio avversario era fanta factor ok che avevano torgen hazard pogba con l'eurovol della vita sterling ovviamente insomma fanno un 76 senza modificatore tra l'altro ma con un punto capitano e si portano a casa la vittoria cioè meglio pareggiamo due a due ma passano appunto per la somma per il punteggio maggiore 76 a 73 mentre quindi eliminato ai ottavi ragazzi passeranno loro ai eliminato ai quarti perché eravamo già otto squadre quindi eliminato ai quarti sono passati loro alla semifinale mentre per quanto riguarda la lega pubblica ragazzi andiamo a vedere chi c'è in testa la classifica ucapetta questo è siciliano ovviamente perché uca aperta significa appunto bocca aperta e vingo io ancora seconda posizione regge lì e urlo del simi terza posizione gli altri sono lì a ridosso occhio reggio che ti hanno scavalcato quindi non mollate scherate sempre la formazione mi hanno comunicato che c'è qualche bug che stanno sistemando per quanto riguarda il mercato gli svincoli dei giocatori con l'asterisco vi ricordo le regole ragazzi potrete modificare tutti i giocatori eliminati dalla competizione quindi quelli con l'asterisco che di squadre eliminati dal torneo più un cambio tra i giocatori ancora in corso quindi se avete giocatori che sono andati ai quarti beh li dovrete tenere a parte uno che potrete modificarlo ok quindi cercate di fare dei giusti calcoli con i giocatori asteriscati ok cercate di fare magari delle giuste plus valenze di comprare i giocatori in modo tale da giocare in undici il prossimo turno e poi potrete eventualmente anche fare un altro cambio in caso di emergenza e quanto ho fatto io ragazzi allora la mia posizione dovrebbe essere il 92esima posizione perché ho fatto bene ma non benissimo 70 e mezzo ragazzi mi aspettavo di più da Mbappé che ho preso al posto di Kane cioè Kane l'ho tenuto tutta la partita ha fatto cagare dico ok lo cambio ho dovuto fare anche qualche plus valenza per andare a prendere Mbappé contro la Svizzera eliminato Mbappé almeno la cosa buona è che posso sostituirlo con qualche buon giocatore rimasto insignia e Lukaku tutti a secco Vainaldi pure Malinoski addirittura subentra a sto punto ero indeciso io se mettere Malinoski o Forsberg Malinoski o Forsberg metto Malinoski e lo fanno pure subentra mentre Forsberg gioca e prende pure 10 totale mannaggia a me mannaggia a Barella ecco Zincenco l'unica gioia è stata Zincenco poi in porta ragazzi prendo Stecklenburg che mi prende 3 cioè 5 perché fa Pellaro più 2 gol dalla Repubblica Ceca dalla Repubblica Ceca adesso il problema sarà andare a prendere qualche portiere devo fare qualche plus valenza mi sa per andare a sistemare sta cosa è delict ragazzi mi ha ammazzato anche lì il punteggio non ce l'avevo in entrambi i fanta europeo comunque un'altra cosa che vi ricordo è che chiuditi che nel mio sito nella sezione vi ricordo area di gioco cliccate area di gioco e potrete già votare per i marcatori impromabili ai quarti io sto raccogliendo i vari dati di chi magari ha beccato i marcatori negli scorsi turni per eventualmente premiare appunto il vincitore cioè di chi ha beccato durante tutto l'europeo più marcatori improbabili ok quindi mi raccomando partecipate numerosi basta inserire le varie informazioni qui come detto nell'area di gioco basta andare su carmispecialfandacalcio.com e nell'area di gioco potrete partecipare al gioco poi vi ricordo la live di stasera mi raccomando vediamo se la riesco a fare intorno alle 21 ci provo ragazzi io vi comunicherò tutto anche tramite instagram seguitemi su instagram seguitemi anche appunto come detto su carmispecialtv sulla piattaforma viola siamo 9.700 circa arriviamo ai 10.000 follower no? ci possiamo benissimo arrivare trovate tutto tutto in descrizione va bene? detto ciò credo di aver quasi finito gli annunci la live di stasera di cosa tratterà ragazzi? si tratterà ovviamente della nuova stagione soprattutto mese di luglio di come sarà impostato quindi tutti i nuovi contenuti che stanno per arrivare già il video di domani molto molto importante è un video ricorrente che io faccio ogni anno di solito lo faccio uscire a giugno quest'anno ho deciso di farlo uscire a prima di luglio proprio per iniziare la nuova stagione quindi non vi perdete i prossimi contenuti mi raccomando ok qui da carmispecial un abbraccio ragazzi e buon fanta europeo a tutti buon europeo buona settimana buona estate e che dire buon fanta calcio 2021-2022 mamma mia alla prossima ragazzi a stasera più che altro in line ciao